e allora ben ritrovati a tutti cari amici di mobile jack siamo oggi qui ritrovati per vedere la nuova beta la beta 1 di ios 6 però non è un video come gli altri che circolano su internet perché la beta 6 l'abbiamo installata su un iphone 4 quindi andiamo a vedere le caratteristiche che saranno presenti invece quelle che mancheranno rispetto ad esempio ad iphone 4s o ad ipad 3 allora partiamo innanzitutto dal blocco a schermo vediamo che abbiamo una schermata diciamo più simmetrica abbiamo la mancanza del lucchetto qua in alto per il resto rimane tutto uguale abbiamo ancora la possibilità di accedere direttamente alla fotocamera quindi sblocchiamo e vediamo innanzitutto che abbiamo avuto un leggero restyling di alcune icone come può essere l'icona delle impostazioni che è stata leggermente modificata ma anche l'icona dell'orologio che è stata leggermente anche questa modificata e abbiamo la nuova applicazione passbook andiamo a vedere qualche caratteristica le caratteristiche principali cioè le mappe in 3d e quindi la navigazione turn by turn non sarà presente nell'iphone 4 scelta di apple e andiamo subito a vedere come saranno quindi queste nuove mappe nell'iphone 4 avremo sempre la nostra navigazione anche se preferivo sicuramente quella di google maps possiamo mettere satellite e vediamo subito che in basso non abbiamo la dicitura 3d come invece abbiamo per l'iphone 4s quindi non avremo se andremo a selezionare ad esempio los angeles ecco subito ho sbagliato mi sono a los angeles andiamo a vedere cerchiamolo meglio ok los angeles california andiamo a vedere meglio scusate ma attraverso la fotocamera è difficile abbiamo dei leggeri impuntamenti ma è normale vedete che abbiamo una vista dall'alto che comunque è molto dettagliata non abbiamo la visuale in 3d come troviamo nell'iphone 4s quindi l'iphone 4 è stato tra virgolette castrato in questo modo un'altra cosa che non troviamo nell'iphone 4 rispetto all'iphone 4s è FaceTime in 3g potremmo utilizzarlo solo in modalità wifi e quindi questa è un'altra un'altra pecca che apple ha tolto ai possessori di iphone 4 andiamo a vedere un po le impostazioni le impostazioni è stato spostato il bluetooth qui nella parte alta quindi subito cliccabile invece prima era da andare in generali e andarlo a selezionare hanno omesso non disturbare che vedete ci seleziona un'icona a forma di luna nella nella parte a fianco dell'orologio e questo permette ad esempio quando lo impostiamo di notte di ricevere telefonate solo dai cosiddetti personali quindi da quelli che noi vogliamo ricevere telefonate le notifiche non sono state modificate tranne la condivisione widget che è selezionabile quindi inseribile nella parte alta e quindi noi potremo potremo inviare un tweet oppure potremo inviare su facebook ecco adesso sbagliato cliccare e potremmo aggiornare lo stato anche su facebook possiamo selezionare se inviarlo agli amici solo a me amici a rete tutti oppure ai gruppi ai quali siamo iscritti insieme possiamo anche aggiungere la posizione come sempre abbiamo subito un leggero bug quindi ad esempio l'icona di facebook è leggermente spostata ma questo è normale la prima beta non possiamo pretendere niente di che dalla prima beta eravamo nel meteo nel meteo vediamo subito che c'è stato un lieve restyling niente di sconvolgente apple non fa niente di sconvolgente dal punto di vista grafico però vediamo subito che abbiamo un bug le temperature sono decisamente sballate infatti vi confermo che adesso ci sono 18 gradi ma meno 7 non ci sono proprio andiamo avanti andiamo eravamo sempre nelle impostazioni quindi qua manteniamo sempre le stesse di prima abbiamo il non disturbare che può essere programmato in base a orari che noi scegliamo oppure applicato a orario indefinito e consentire chiamata da preferiti da nessuno da tutti quindi possiamo selezionare da chi ricevere chiamate oppure da gruppi della rubrica abbiamo ora un altro raggruppamento in cui troviamo il tab privacy privacy cos'è non è altro che la localizzazione che prima era in alto ora è stata raggruppata sotto il termine privacy e noi potremmo selezionare quali applicazioni andranno utilizzare la localizzazione e quali invece no in più abbiamo i contatti quali applicazioni andranno utilizzare i contatti quali invece vogliamo che non li utilizzino per il resto è stato unificato nelle chiamate di facetime il nostro numero con il la nostra mail e abbiamo sotto varie impostazioni del nostro iphone due tab il tab di twitter che c'era già in precedenza quindi con il nostro account in cui potremo installare l'app ufficiale di twitter e inserire il nostro account più di uno e aggiornare i contatti aggiornare i contatti non è altro che twitter in pratica utilizzerà gli indirizzi mail e i numeri di telefono presenti nella nella mia rubrica e aggiungerà le foto e i nomi degli utenti di twitter che sono presenti nella mia rubrica lo stesso farà facebook con il suo aggiornare i contatti in più abbiamo anche un tab impostazioni in cui andiamo a selezionare tutte le notifiche push che noi vogliamo ricevere e vi assicuro che funzionano meglio rispetto all'app ufficiale che comunque dovrà essere installata che non ci mandava quasi mai le push poiché altro dire è stato modificato il safari nel senso che quando noi andremo a posizionare il nostro iphone in landscape adesso andiamo a selezionare noi potremmo metterlo in full screen certo su uno schermo da 3,5 pollici non è sta gran cosa però buttalo via noi accettiamo tutto intanto vi ricordo di visualizzare la nostra pagina che è www.mobilegeek.it altra cosa che è stata modificata e è stata resa secondo me più interessante è l'app store che sicuramente aveva bisogno di una svecchiata e questo aggiornamento iOS 6 gliel'ha dato più o meno andiamo a vedere la prima cosa che è nel tab aggiorna adesso se mi mostra gli aggiornamenti che devo fare ok qui potremmo aggiornare direttamente oppure cliccando avremo una descrizione delle delle novità che sono state introdotte con l'aggiornamento poi cliccando su aggiorna aggiornerà direttamente l'applicazione senza dover inserire nuovamente la password e tutto il resto vedremo l'avanzare del aggiornamento e dell'installazione direttamente dal app store e una volta che avrà finito adesso aspettiamo un secondo potremo aprire l'applicazione direttamente dall'app store col tab apri clicchiamo sopra e ci apre direttamente l'app store come detto è stato è stato aggiornato è stato modificato in questo modo che adesso andiamo a vedere più o meno faccio tutto al momento nel senso che l'ho appena installata e quindi cerchiamo di scoprire anche assieme le novità quindi abbiamo una serie di programmi a scorrimento se seme di carica ok quindi non avremo più la suddivisione come prima ma avremo queste grosse icone possiamo scorrere e visualizzarle il genius se non ricordo male non funziona ancora quindi non è utilizzabile ancora su ios 6 che altro dire l'ultima cosa è in immagini noi abbiamo la nostra bella immagine e possiamo condividerla con un maggior numero di applicazioni rispetto a prima non una cosa eclatante però è stato aggiunto facebook è stato aggiunto qualche altra chicca come questo questo menu in cui abbiamo tutta una serie di possibilità di di inviare la nostra foto ad esempio a twitter noi la possiamo inviare e quindi facciamo la nostra bella prova e invia ok vediamo se va ok ultima cosa è nel comparto mail che anche questo è stato modificato infatti avremo un aggiornamento quindi trascinando verso il basso come ad esempio perché utilizza l'applicazione di twitter come twitter e e potremo inserire immagini direttamente nell'applicazione ed inviarle inserisci foto la nostra bella foto la possiamo scegliere inserire e inviare quindi direi che per per oggi è tutto spero di aver detto tutto e aver completato quello che può essere il discorso iphone 4 che perde alcune cose rispetto all'iphone 4s rimane comunque decisamente fluido e quindi vi rimando alle recensioni delle prossime beta da il confa per mobile jack e quindi vi rimando